Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie dell'Olysecraft Ragazzi, oggi andremo a fare finalmente l'armatura finale della Draconic Visto che comunque ho ricoprato un po' di roba che vi farò vedere adesso all'inizio della puntata Però come sempre vi invito a lasciare un bel like, a condividere il video e a iscrivervi al canale se siete ancora iscritti E ricordate di attivare la campanella, anche perché se no le notifiche di Youtube vanno un po' così così e non vi arrivano Quindi poi non sapete quando esce l'Olysecraft, mi chiedete quando esce l'Olysecraft che comunque esce ogni giorno alle 20 Quindi non dovreste avere problemi a ricordare questa cosa semplicissima Comunque iniziamo In off camera ho craftato più che altro, ho farmato un po' di soul, infatti ho 265 mob soul Ricordate che 4 di queste fanno una resurrection stone, questo significa che abbiamo la possibilità di fare infinite resurrection stone E infatti è quello che faremo adesso perché, cioè, siamo messi così tanto bene che ne possiamo fare quanti vogliamo noi E voglio insegnare anche a questo sistema come si fanno alcune cosette perché mi dà fastidio il fatto che non riesco a fare un po' di cosette Allora insegniamo prima di tutto come si fa questa cosa che ne è cazzata così, perfetto Quindi facciamo fare questo qui, bene E poi insegniamo come si fa quello che viene subito dopo, che dovrebbe essere la Wyvern Che si fa allo stessa maniera Le Nether Star dovremmo averne un paio, vediamo un po' quanti ne abbiamo perché non ne sono sicuro Ne abbiamo soltanto 17, dobbiamo craftarle ovviamente, però per il momento lasciamo le perdere 17 dovrebbero essere abbastanza decenti perché comunque dovrebbe andare bene Ma lei che vada se proprio vogliamo effettivamente farne tante, non è un problema Basta andare qua, o andare a uccidere Wither, dovrei fare una farm di Wither Sapete, mh, ora che ci penso una farm di Wither sarebbe una bella cosa Andare qui sopra, in realtà no, e perché ho aperta lì? Vabbè non lo so Andare qua, trovare da qualche parte un assembler, che ce l'abbiamo noi qua, bam E ora possiamo craftarci Infinity Encoded Pattern E ovviamente le resurrection non lasciamo le perdere perché sono un po' più complicate Devo prendere un attimo quella roba della chisel perché voglio chiudere un attimo qua Sono i Futura Block, questi qua, perfetto Non so perché qui è rimasto aperto, si vede che io utilizzo sempre sti cosi Quindi è rimasto aperto a prescindere Ok, ora è giusto E vi dicevo quindi facciamoci un po' di questa roba Mi servono qui i decor, vedete non ne abbiamo Ne craftiamo 16, quanti ne volevamo fare di draghi? Io direi sì, facciamo ne 16 perché ci serviranno Quindi facciamone 16, ok E quindi facciamo così Next, ovviamente andiamo a craftare un po' di roba Però vedete qua quanto è veloce a craftare gli oggetti E avremo tutto il necessario per poter fare quindi benissimo 4 di queste stone E ora sto facendo gli altri L'inizio già ce l'aveva già pronto Invece questi li devo ancora craftare E adesso ragazzi così abbiamo a disposizione la bellezza di 4 draconic di queste Anzi in realtà 5 in totale Quindi 5 resurrection e dovremmo avere un po' di draconic block Charged che serviranno in realtà sia per evocare il drago Sia per fare poi questi qui I nostri awakened Quindi serviranno un po' di queste cose E mi serviranno ora che ci penso anche altri core Che mi sa che fossero questi qua O gli altri Non mi ricordo in realtà Devo controllare questa cosa perché non mi ricordo quale di due fossero E mi serviranno anche dei blocchi di diamante Che io ho già Ma posso anche craftare in realtà tranquillamente Facendo in questa maniera Perfetto E quindi abbiamo un po' di blocchi di diamante Un po' di quarzo Tutto necessario ce l'abbiamo Per poter evocare i nati draghi Ho preso tre cuori Che basta in realtà per fare ciò che dobbiamo fare E ho creato questa stanza Più che altro questa zona Un po' utile Per fare tutto ciò che mi serve Allora ricordiamoci sempre che bisogna buttare un cuore Bisogna attivare un'esplosione In teoria la TNT non dovrebbe andare a intaccare nulla All'esterno di questa zona Più o meno In realtà ha fatto un casino Perfetto Andiamo a piazzare 1, 2, 3, 4 blocchi Andiamo a buttare in mezzo questi 16 Che dovrebbe prendere lui Perfetto E adesso aspettiamo che faccia tutto il necessario Quindi adesso dovrebbe trasformarli in sostanza In blocchi di draconium Che a noi servono in realtà quelli Però che in realtà è un awakening draconium Nemmeno draconium normale E ne farò altre due volte Così da avere 4 blocchi da 9 lingotti di uno Che non sono niente male E sono un po' più utili rispetto a normale Perfetto Quindi questo primo fatto Facciamone ancora altri Sto facendo l'ultimo ragazzi Come vedete ho già 8 blocchi Adesso ne ho altri 4 Quindi siamo a cavallo Perfetto Adesso torniamo un attimo giù E andiamo a craftarci Tutta la roba che ci manca Della draconium Dovrebbe essere abbastanza utile Questa roba Perché dovrebbero essere tipo Un'infinita di blocchi Oddio Quasi due stack Non sono tantissimi Però fidatevi Che dovrebbero essere sufficienti Per quello che bisogna fare oggi Almeno spero Perché se no devo farne altri Vabbè non è un problema Posso farne quante ne voglio Allora torniamo alle missioni della lambda Eccoci qua Dobbiamo craftarci Prima di tutto Dire di iniziare con questa roba Mi avete consigliato anche voi nei commenti Di fare la matura completa di draconium Perché se no col cavolo Non riusciamo a battere I chaos guardian Quindi ok Mi servirà una di queste Mi servirà quindi draconica helmet Chance plate Leggis e boots E facciamo quindi tutto quanto Facendo così draconica Eccoci qua E andiamo a trovare Ciò che ci serve Allora questo Si fa con questa roba Quindi mi servirà a fare un energy Ovviamente bisogna fare Un paio di questi Mi serviranno dei blocchi di dead zone Che ora prenderemo subito In questa maniera Perfetto Almeno abbiamo un po' di roba interessante E quindi facendo così Bisogna fare un po' di roba Me ne servono in realtà un paio Quindi facciamone Non lo so esattamente quanti Ne dovrei fare Per ora 16 Direi che Ci accontentiamo Anche perché sono finiti i blocchi di red zone E ci facciamo Uno di questo qui Mi servirà al centro Un altro core Che mi sono dimenticato di fare E un attimo Che lo faccio subito Quindi facciamo core Me ne servono un paio di questi Facciamo una decina Giusto per essere sicuri Perfetto E quindi con uno di questo Benissimo Ci craftiamo Un draconic energy core Ora posso farmi il draconic Tranquillamente Questo almeno iniziale Perché abbiamo già Un paio di questi qui Ovviamente bisogna Levare l'armatura Che abbiamo adesso Perché ci servirà Un pezzo d'armatura Per ogni cosa Sono un idiota Perché ho sbagliato A mettere i pezzi Eccoci qua Quindi helmet fatto Ragazzi Perfetto Così così mi faccio già il resto Perché tanto i crafting Mi sembra che siano gli stessi Per tutto Tranne il centro Ovviamente che cambia A seconda di ciò Che bisogna craftare Ce ne servono tre in totale Quindi ho fatto bene A fare tutto questa cosa Quindi facciamoci Anche questo chestplate E ci siamo Abbiamo già sprecato Un po' di blocchi Come state vedendo E quindi abbiamo a disposizione Un po' di roba Mi sa che mi serve però L'ultimo pezzo Perché questo qui Adesso non ce l'ho Lo craftiamo subito Perfetto E quindi ci facciamo Anche i piedini Perfetto ragazzi Armatura completa Dovrebbe essere pronta Vedete qua Mi ha dato già il claim Ed è il massimo Il top tier Massimo Non si può fare nient'altro Ragazzi Ed è fantastica Sta cosa In realtà possiamo migliorarlo Credo E non è male Sì Credo che non è male Come cosa Ovviamente bisogna Fare in questa maniera Perché questo è disattivato Quindi charge hotbar Charge tutto Proprio a prescindere E quindi andiamo a caricarci Anche l'armatura Guardate qua Sono stupendissimo Con questa armatura Un pochino bruttina Dov'è sincero Però è figo E sto caricando La mia armatura completa È tacciato per cento Mi dà un sacco di protezione E in teoria Non so Se posso Utilizzarlo meglio Mi piace molto di più questa Perché in realtà Questa non ha i potenziamenti Già fatti Se vogliamo li possiamo fare Tranquillamente dentro qua Però Sinceramente Perfisco Di gran lunga Il fatto che possa Accelerire i potenziamenti Rispetto a quello Che mi fa in automatico Perché sono un po' Una palla Quindi devo farmi I potenziamenti Riguardanti Questi qui Mi serviranno Un botto di roba Oh mio dio Abbiamo un cap di 30 Per ogni oggetto Ovviamente Possiamo metterci La shield recovery La shield capacity E altre cose Ovviamente La shield capacity Che cos'è ragazzi Prima di darci del danno Abbiamo un Uno shield Diciamo Che è caricato Che è quella cosa Che sta qui a destra Con 500 E ci permette di essere Meno Diciamo Uccisi dalla gente Quindi è una buona cosa Possiamo utilizzare Come avete visto Un po' di oggetti A seconda di ciò che vogliamo Per poter Diciamo Migliorare le nostre armi Le nostre cose E io direi che Ci conviene Non tanto aumentare Le RF capacity Perché abbiamo La nostra batteria Da parte Quindi nessun problema A parte che Se non sbaglio Si può anche caricare Questa batteria E migliorarla Infatti guardate Con qualsiasi cosa E ci conviene In realtà andare Tanto con questi qua Iniziali Perché questi danno Un punto Per ogni cosa Questi ne danno Quattro è vero Però sono più difficili Da craftare Quindi mi preferisco Di gran lunga Fare questi qua Da quattro Che sono una cazzata E quindi mi faccio Un po' di oggettini Ragazzi Vi faccio vedere Come si fanno A potenziare le armi Però nel livello di questo Direi di farci Anche un'altra missione Che era quella Relativa alla staff Of power Che mi servirà Per fare un po' di roba E questa Per farla In realtà È un po' più complicata Perché bisogna craftare In realtà Tutto questa roba Bisogna fare Draconic pickaxe Cosa del genere Quindi mi serviranno Un casino di questi Mi sa proprio di sì E il problema È che mi serviranno Comunque Altri blocchi Ok mi servono Un casino di core Ne facciamo Boh Cento direi Per forza Ovviamente bisogna Prima fare tutto quanto Abbiamo già una spada Abbiamo tutto necessario Però mi sa che bisogna Di fare comunque Tutto quanto A prescindere Perché se no Non ce la facciamo Quindi ci facciamo Un paio di questi Mi servono tre Giustamente E devo fare Tutto necessario Quindi dalla spada All'inizio Bisogna fare questo Quello all'inizio Bisogna fare qualcosa È un po' un problema ragazzi È un po' una ruttura di palle Se lo è sincero Allora bisogna fare Tre di questi Per il momento Perfetto Quindi ci facciamo Un piccone iniziale In questa maniera Ecco ce l'ho qua Piccone di Vivern Poi bisogna fare Se non sbaglio La spada O l'ascia Aspetta che non me ricordo Questa cosa Perché La staffa E la La sciovola Ok ok La spada E ci siamo Eccola qua Ce l'abbiamo anche questa No in realtà Non abbiamo una spada In diamante Ricordatevi La spada di diamante In questa modalità In realtà non ha senso Perché non funziona Così tanto bene Quindi facciamo tutto necessario Quindi questo fatto Questa ce la facciamo subito Eccola qua Quindi boom boom Li buttiamo direttamente qui dentro Tanto non ci servono E poi finiamo Con questa qui Finale Perfetto Abbiamo tutto necessario Direi proprio di sì Ora bisogna craftarsi Quindi Uno di questo Che Richiedo ovviamente Di fare questa roba qua Quindi mi serviranno in sostanza Altri Viver Energy Che devo craftare Me ne servono Credo Tre da parte Forse quattro in più Quindi venti Totale Direi proprio di sì Anzi no Quattro Sedici Sedici sì Ok E quindi ci facciamo Un paio di questi Quindi uno Due E basta Cos'è che ci manca in mezzo Non me lo ricordo Cosa c'era in mezzo Ah Il Viver Core Ok mi servono anche questi In sostanza Guardate che casino Di roba Bisogna craftare Per fare Sto coso qua Ok Quattro dovrebbero essere sufficienti Perché anche questa Chiede una No non lo chiede Ma edizione Sono stupido io Che le faccio Senza Che me le chiedano Ma sti cavoli Facciamoci comunque Uno di questo Per iniziare E mi servono Quattro di questi Awakened Core E così facendo Vediamo un po' Se ne abbiamo Sotto necessario Ci facciamo Un bel piccone Draconic Poi ci facciamo La nostra Showel Draconic E per finire La spada Draconic Che i messi insieme Ci daranno Questa La Draconic Staff of Power Che è tutto ciò Che potete mai immaginare Di avere Tutto in una parte Ha 30 Anzi 60 di damage Che comunque è leggermente meno rispetto alla mia Però credo si possa aumentare ancora un pochetto E migliorarla Perché se non sbaglio Anche questa va potenziata qui dentro E dovrebbe dare più danno Vedete Attacco E Attacco damage La grandezza con cui può rompere Insomma un bordello di roba Possiamo installarci sopra Però direi che Andrei tanto per attack damage Quindi mi servono in sostanza Un casino di oggetti Ma ci sta Mi piace come cosa Quindi abbiamo completato anche questa missione E ci siamo ragazzi Perfetto Ora Ci tocca andare a fare Un paio di altre cosette Relative al Chaos Guardian Infatti bisogna Uccidere uno di quelli Io direi però Di fare una cosa Più importante E più veloce Ovvero farmi un po' di core Così posso fare Un sacco di cose Più o meno importanti E serviranno in realtà Molti di più di questi 100 Che sto craftando Quindi facciamo un ben 200 Perfetto E li utilizziamo per poter Migliorare tutte le armi In realtà Ora come ora Dovrei dire addio Al mio piccone E anche in realtà Alla mia glowstone cleaver Quindi mi dispiace Glowstone cleaver Ma diciamo addio Così abbiamo a disposizione Soltanto uno di questi Sick touch Mi potrebbe servire Quindi per ora lo tengo E come vedete Adesso scaliamo di uno Finalmente E abbiamo anche tre leggende Di che ora andiamo ad aprire Perché non so cosa può esserci dentro Una torretta Va bene Una lence E del saltor Proprio le più grandi Merdate che possiamo trovare Abbiamo trovato soltanto noi Grazie mille Project ozon Ah non mi ricordo Se avevo detto che Abbiamo bloccato anche In realtà la parte di sotto Che è la mu Perfetto E possiamo craftarci Un matrix Che in realtà Ci serve E costa anche Parecchio Tipo parecchio 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 Perché siamo Un botto di diamanti E bisogna fare tipo Quattro di questi E ci danno uno di questo Tac Quindi nether star Forse ci servirà una farm E uno di questo in realtà Non è nemmeno l'inizio Perché è una piccola cosa Che servirà per craftare Il direcrafting table Per fare Tutta questa roba Che è un casino di cose Che faremo Per le ultime parti Perché questa è l'ultima missione Più o meno Perché c'è la nu Che in realtà È un Hai fatto tutto Quindi bravo Completa l'ultima missione Però siamo lì ragazzi Ed è una virata pazzesca Quindi vedremo di fare Un sacco di cose Comunque I core ce li abbiamo Ne abbiamo 170 Che dovrebbero bastare Per il momento Avere 64 per il momento Qui poi ne facciamo altri Non preoccupatevi E andiamo prima di tutto A potenziare la nostra Picca Allora io direi Di aggiungerci un botto Di questa roba Ah posso mettere 60 Qui dentro E ah non sto sbagliando Perché in realtà Non voglio queste Ma voglio in realtà Queste Ovvero l'attack damage Ricordate E quindi siamo andati A 125 Oddio ragazzi Quanto leva 30 di attack damage In più E Quasi quasi Dig depth Beh potrebbe essere interessante Se proprio vogliamo metterla Diciamo Diciamo che non ci serve In realtà Sti cavoli Facciamo direttamente Tutto damage Perché Tanto non scaverò mai Questo piccone Ormai è finita L'era della scavare ragazzi Quindi va bene così Cappato al massimo Abbiamo a disposizione Un'arma che leva 360 Per danno Ovviamente Con tutto necessario Che c'è per ricaricare Non dovrò avere problemi Di nessun tipo Quindi quest'arma È strepitosa Come state vedendo qua Abbiamo 90 milioni Ed è wow Wow Davvero E ok Ci siamo Abbiamo finito quindi Quest'altra parte Ora Mi serviranno comunque Un sacco di altri core Perché Servono davvero Un'infinità Peccato che non abbiano un valore Perché sarebbe stato bello Avere un valore Per fare cose E sto spiegando anche Un sacco di materiali Per fare Sti oggetti Quindi è un po' Un problema Ma sti cavoli Aumentiamo anche questo Mettendo ovviamente La capacità massima Andiamo a aumentare Il massimo di energia Che può contenere all'interno Che credo siano Perché non due milioni Vabbè Un bilione E7 Più o meno Va benissimo E quindi ci siamo E Dai non è male Infine Sta ricoprando un po' di energia Che ci metterà tanto a recuperare Però va bene Credo che l'energia sia A percentuale Non tanto a recupero normale E oltre questo Adesso dobbiamo potenziare Invece l'armatura Quindi vediamo un attimo Di migliorarci la nostra armatura L'armatura Ho un dilemma Su come potenziarla Perché non sono tutti 30 punti Potremmo fare Niente capacità di RF Perché tanto non ci serve Fare 15 e 15 Più o meno Perché potrebbe essere interessante Potrebbe esserci utile Un po' di cose Io direi Shield capacity Ne facciamo 20 Dai Si facciamo 20 di questi E invece 10 di questi Solamente Del recupero di shield Che comunque Dà un po' di roba in più Vedete Quindi ci sta Più che altro Davvero Non so se Posso fare in questa maniera O posso metterci questi qua Direi che per il momento Facciamo in questa maniera Poi in caso dovesse esserci utile Quando faremo una farm Magari un po' più utile Potremmo ampliare quest'ultima Con qualcosa di un pochetto Più fattibile Perché questo dà Stanto 4 punti Mentre questo Ne dà stanto 1 Quindi la differenza Sta nel fatto che Ti fai Più roba Velocemente Rispetto a farlo Con più tempo Quando ne hai necessità Però per il momento Va bene così Allora questo Andiamo in avanti a mettere Altre 20 Sto facendo per ora così E dovrebbe bastare Quando uccideremo Il nostro Awakened Credo che Giustamente lui Dovrebbe essere Un pochino più forte Del normale E dovrebbe dorparci Anche questa roba Si spera Quindi vedremo un po' Come fare ragazzi Non preoccupatevi E quindi abbiamo a disposizione Ancora un paio di altri core Perché ci servono Aspetta che le prendiamo E completiamo quindi Quest'altra roba Al 100% Qui abbiamo finito tutto quanto Credo Ok quindi 20 di questi In questa maniera E 10 di questi finali Che ci porteranno ad avere Un bel po' di shield E altra roba Piuttosto interessante Quindi facendo in questa maniera Adesso abbiamo a disposizione Uno shield Che è di 2100 Ok E abbiamo a disposizione Comunque un'armatura Che ha una protezione Migliore rispetto al precedente Quindi è sicuramente Molto più forte Di quello che potevate Mai sospettare Comunque ragazzi Io per il momento vi saluto Vi ringrazio Se siete con me Anche in questa nuova puntata Dove essere tutto Ciao ciao E ci vediamo presto Nella prossima puntata Per sconfiggere Ufficialmente Il drago Ma hai detto Che ci affligge Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao 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 Ciao